Pochi secondi ma che possono evitare il peggio in caso di terremoto. E' il sistema Poseidon attivato nell'istituto comprensivo Giovanni XXIII di Terra Nuova Bracciolini, uno dei primi in Italia. Quasi 1100 gli alunni interessati dal nido alle scuole medie. 5000 euro il finanziamento messo a disposizione dal comune di Terra Nuova. La ricerca, la tecnologia e la formazione sono gli ingredienti principali. L'accelerometro, quella grigia sotto con la manopola circolare, è l'accelerometro. Quindi quel dispositivo lì collegato a una parete portante, a una colonna, rileva gli infrasuoni, rileva le vibrazioni in bassa frequenza tipiche di un evento sismico. La parte di sopra è un'interfaccia che contiene tutto il sistema di comunicazione della periferia. Quindi che succede? Quando l'accelerometro rileva un evento sismico, quindi l'arrivo di un'onda sismica, la primaria in generale, che è la prima onda sismica che si trasmette durante un sisma, dà l'allarme e tutte le sirene collegate in tutti i corridoi, nelle palestre e comunque negli ambienti protetti, simultaneamente dando un allarme univoco affinché i bambini, ovunque si trovino, che siano in ricreazione o che siano a scuola, in aula o che siano in palestra, possano mettersi in sicurezza in uno o due secondi. Ovviamente poi i ragazzi sanno come devono comportarsi perché li abbiamo formati. Poseidon serve a, se in caso ci fossero le scosse di ferrimoto, il Poseidon ce le fa, ce le comunica prima, prima che gli altri le riescano a sentire. Quindi avremo dei secondi molto importanti che non andranno sprecati. Quindi la preparazione dei bambini è importante proprio affinché questi secondi di preavviso noi non li sprechiamo, se no è come non averli avvolto. Nel corridoio bisogna allontanarsi dalle finestre, poi mettersi sotto un arco oppure alla porta, sotto una porta. Però se ci sono i vetri, no, è meglio di no sotto la porta. Insomma un edificio all'avanguardia, tutti gli effetti. Credo che, come vede, insomma qui ci troviamo all'interno di una specie di campus che ha all'interno anche una zona di attività sportive, c'è il nuovo palazzetto, qua c'è il palageo. Quindi è un sistema che ha delle peculiarità e, come permetto di dire, è stato costruito nel corso nemmeno di anni di un paio di decenni di accentramente di razionalizzazione. Non esistono cioè altri plessi nel comune di Terranova, è molto grande al di fuori di questo. Un esempio che verrà presto seguito dai comuni di Pergine, Talla e altre amministrazioni della Valdichiana Aretina.